Io dico che il calcio mi ha insegnato una medicina soltanto, il lavoro, il lavoro quotidiano, l'umiltà. Questo è un gruppo di ragazzi che da dieci giorni sta lavorando con grande dedizione, con grande voglia di stupire. Ecco, questo è l'aggettivo migliore, grande voglia di stupire. Non ci siamo prefissati nessun obiettivo se non quello di salvarci il prima possibile e toglierci qualche soddisfazione importante. Questo è un campionato, un girone durissimo e lo testimonia questa gara, una partita vinta con merito ma anche con buona sofferenza. Ho visto un ottimo Roma City. Sono d'accordissimo, alla fine del primo tempo ero soddisfatto perché sapevo benissimo che il Roma City è una squadra importante, una squadra esperta, una squadra che sa colpire nel momento giusto. Noi dovevamo giocare con quella determinazione, con quella cattiveria, con quella voglia e soprattutto con quella qualità sui nostri attaccanti che sono molto bravi. Dovevamo aspettare, dovevamo anche avere pazienza. C'è stato un minutaggio del secondo tempo dove sembrava che la Roma City ci avesse preso campo. Invece l'avevamo preparata in questo modo. Li volevo un attimino far uscire e colpire poi con i nostri giocatori. È chiaro che questa è una vittoria importantissima. Difficilmente ricordo né da calciatore né da allenatore di aver vinto spesso due gare consecutive in casa. Quindi valgono tanto, valgono tantissimo e tutto questo è frutto della bravura dei ragazzi. Ma i nuovi, già i sei ragazzi che erano arrivati la scorsa settimana hanno dato un grande contributo. Ma non si tratta di nuovi o di vecchi, si tratta di aver, con il direttore, con il presidente, con la società, di aver preso e di aver fatto degli accorgimenti importanti in questa categoria, di aver messo alcuni tasselli al posto giusto e soprattutto di aver messo un po' di serenità, un po' di tranquillità, perché nel calcio c'è bisogno di questo tipo di medicina per lavorare. È chiaro che le vittorie aiutano ad ottenere autostima, aiutano a portare serenità. Ripeto, non ero preoccupato quando dopo la partita del Porto d'Ascoli, che io ero appena arrivato da pochi giorni, avevo visto una squadra in difficoltà. Non mi esalto oggi, che veniamo da due vittorie consecutive, però voglio fare un grande complimento a questo gruppo perché se lo merita di cuore. I ragazzi, ripeto, hanno lavorato durissimo. Sapevo che oggi potevamo concedere gli ultimi 6-7 minuti della gara, che le gambe venivano meno. Avevamo già chiuso la partita sul 2-0, quindi lì l'abbiamo gestita in maniera intelligente. Ma sì, è stata una bella partita sotto ogni punto di vista, però sapevo che chi prima segnava poi vinceva la partita, quindi nulla da recriminare. I ragazzi non posso dire che sono stati, che non hanno giocato e interpretato la partita nel miglior modo possibile. Quindi sono molto contento, anche se andiamo via senza punti, però sono molto contento perché tutto ciò che io ho chiesto hanno eseguito in campo. Ma niente, è mancato semplicemente il gol, però piano piano, lavorando, siamo una squadra che è appena nata, quindi diciamo che abbiamo bisogno di lavorare molto ancora, che l'ho detto anche ai ragazzi, però stiamo sulla strada giusta.